Non mostrarsi mai troppo interessate anticipatamente. Che vero, grazie, complimenti. Ricordare sempre che se si hanno minigonne o vestiti che tendono a salire, non si può stare con le gambe aperte. Mai raccontare cose che possano imbarazzare l'uomo che ti sta di fronte con racconti un po' troppo intimi. Comincii a insapunarmi le cabine.